Allora, che c'è Gigi? Ho fatto un corso online di magia, sono bravissimo, vogliamo fare un esperimento? Sì, ho comprato anche il libro di Harry Potter, quello originale, sai? Perfetto, allora chiamiamo le nostre co-conduttrici delle cavie, delle cavie! Fatima Elisabetta! Ma quanto sono belle! Eccoci! Cosa fai? Tutto facciamo un test! Sì, 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 allora io farò una magia, cercherò di fare una magia meravigliosa! Volevo chiedere una cosa! Sì? Fatima, tu credi alle streghe? Sì! Ah, fatti, te lo fissi che la scuola! Oh, dai! Non è bello che dico! Ti farei spavire, ti faccio spavire! Mi fai spavire dalla teba? Invece farò un trucco meraviglioso, signori, con la mia bacchetta e il mio librozzo, cercherò di trasferire il suo cervello inesistente nel suo corpo statuario e il suo cervello nel suo corpo malandato! D'accordo? Non ci credo, è impossibile! L'ho studiato, ce l'ho qui! Allora! Sì! Pari un pampù! Eccomi qua! Questo va qua e questo va qua! Ecco, questa formula! Maneggia proprio il cinema in canta! Come so stretta che è dentro! Rivediamo a corpo mio! Flavuzzo! Flavuzzo, gioia mio, cuore mio! Rivediamo a corpo mio che è troppo stretta che è dentro! Oh, Gigi è riuscito! Eh, vediamo lei! Buonasera! Wow! Tengo sti-sits! Eh! No! Questo mi fa raggiare! Ma non ci fa raggiungere il canta! Rivediamo a corpo mio! Se no te ne ho detto come ne so pensato! Capisci? Ma vatten! Vabbè, eh, Gigi, perché si ammazzano! Fai l'espegno di riso! No, un'altra formula! Dai! Fagina 32! Eccola! Pari un pampù! Pari un pampù! Eh! Che torni tutto com'era prima! Bimba! Eccola che tornava le menti nei corpi delle persone! Proviamo, dai! Vai, Ron, vai! Occhio di lince! E cenere di braci! Ritorna in te, Elisabetta Gregoraci! Ah, meno male! Mi sentivo così stretta! E poi io soffro di gastrofobia! Meno male! A me, a me, a me! Vai, Ron! A te! Occhio di volpe! E pelo di marmotta! Ritorna in te, Fatima Trotta! Ah, meno male tutto come prima! Però peccato! Perché? Mi ero abituato in zizza! Fatima! Va vai! Sono stato un bravo chirurgo!